Chi siamo? Noi non siamo nessuno. La nostra missione è controllare l'attività aliena sul pianeta Terra. Flaco, lo sai che non devi pazzicare a Nordicanal Street. Chi è Flaco? Franchillo, scemo! E stanno buscando me, Lotte! Allucinante, vero? Due uomini adulti che parlano al muro e il muro gli risponde. Bel casino, ma ehi, non ti preoccupare. Verbale incidente. Accesso negato. Ci sono cose che non ti serve sapere. Questa balla non me l'hai detta quando mi hai reclutato. Ti ho promesso solo i segreti dell'universo. Beh, quali altri segreti ci sono? K! 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 Sto cercando K, l'hai visto? Un signore anziano, un tipo intrattabile. Sorride così. K è morto da più di 40 anni. Tieni, prendi questo! Ora devi solo saltare! Qualche faccia un salto! Un salto nel tempo! K! Come sai il mio nome? Che contribuisce! Che... Che motivi? Chi Holda!